Una passione per l'uomo, il titolo del meeting, che cosa vuol dire questo nel contesto africano che lei vive tutti i giorni? L'uomo è creatore di Dio e la passione per l'uomo è nel progetto di Dio. In Africa lo vediamo nella quotidianità. Dobbiamo difendere la dignità, la libertà dell'uomo, l'uomo in tutte le sue forme. Fare questo vuol dire anche portare la felicità nel nome di Dio. Oggi è la pace che manca all'umanità. Noi che siamo alleati di Dio dobbiamo impegnarci con passione per aiutare l'uomo a vedere il volto di Dio. Viene al meeting l'incontro artigiani di pace. Pensando all'Africa vengono in mente due problemi, la guerra per prima cosa e la fame. Può da questo meeting partire un nuovo messaggio? Qual è la situazione e che cosa si può fare? Venire al meeting è un invito alla solidarietà internazionale e io porto la sensibilità dell'Africa, le situazioni di guerra e fame che la colpiscono per attirare l'attenzione dell'umanità. Allo stesso modo vengo per dire che l'Africa, al di là di guerra e fame, ha energie e speranze, che l'Africa aspira alla pace. Siamo pronti a unire le nostre idee e i valori con voi. Noi vogliamo lavorare per una pace per tutta l'umanità. Vogliamo portare pace e Cristo è la vera pace. Artigiani di pace siamo tutti, noi africani e voi europei, assieme per creare un nuovo mondo di fraternità e fratellanza. De fraternità e di convivialità.